Ho finito la chiesa nuova papà, il cardinale argentino Percoglio, si è chiamato Francesco, primo grande segnale di unità della storia della chiesa, i cardinali purtroppo sono raffacciati sulla loggia delle benedizioni e l'ho finito la banda che esprime la gioia di tutta la chiesa, suonavano anche le tue romane, ho finito la chiesa, ho finito la chiesa, ho finito la chiesa, quando si è affacciato ho parlato alla sua gente, la gente della sua diocesi, la diocesi di Roma mi ti ha chiesto e mi ha detto di pregare per tutti insieme, quasi a giugnato e piegato a me, mi ha detto che la benediziosa, la preghiera di tutti i romani, grazie a San Pietro, veramente il primo talentale dell'arco di Roma, che si è tornato a festa, domani andrò a pregare dall'alba, dopo un cadetto giugno papà che si è rivolto ai confrotelli cardinali di Centro dovevate dare un'eserla a Roma, avete trovato quasi un'ordina della pietra del mondo, una giornata storica in cui si conclude, la miaia di festa, auguri a Francesco Primo, che si è tornato a fare un'eserlazione, ma non è un'eserlazione, ma non è un'eserlazione,